Ieri su alcuni siti è uscita la notizia di un possibile passaggio di Antonio Bacio Terracino a Renate. L'ipotesi che ha messo subito in allarme i tifosi sui social è stata prontamente smentita dal DS Sandro Federico, il quale ha dichiarato l'esterno napoletano, sotto contratto fino al 2019, si muoverà, salvo colpi di scena, solo in caso di arrivo di offerte dalla Serie B. A decidere il futuro del giocatore sarà il Teramo, che non si priverà facilmente del giocatore. Intanto sono in arrivo le prime ufficializzazioni sul frontemercato, domani potrebbe esserci l'annuncio ufficiale di Gianmarco Piccioni, classe 91, nell'ultima stagione con il Sant'Arcangelo, poi sarà la volta di Di Renzo. Il riparto avanzato sarà dunque rinnovato e c'è l'accordo già con il Sassuolo per l'esterno offensivo Giacomo Zecca. Sembra essere sfumato il portiere Renocchi. Resta punto interrogativo su Vito Leonetti ex Vastese. Resta anche viva la pista di Hopp. L'attaccante senegalese, classe 93, ultime due stagioni nelle file di Modena e Bassano, con trascorsi in B nella Juve Stabia, Crotone e Ternana. In uscita bisogna definire al più presto le situazioni che riguardano Amadio, Barbuti, Caidi, Fratangelo e Tulli, senza dimenticare che è sempre viva l'ipotesi per Graziano, Ilari e Sales per restare in Biancorosso. Non resta quindi che pazientare.